Claudio Rizzo, voi ponete un problema sicurezza a Ribera anche dopo i fatti accaduti e sabato notte? Sì, c'è un problema sicurezza che ci preoccupa sia come cittadini che come esponenti della Lega Salvini Premier di Ribera, tanto è vero che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane in realtà c'è stato un incremento dei fenomeni connessi a risse tra immigrati, credo magari irregolari, dove se non sono, nel nostro territorio, l'ultimo occorso sabato sera in un noto bar locale in cui alcuni immigrati, un paio di immigrati a quanto pare hanno litigato, hanno distrutto un po' le attrezzature del locale e quant'altro. Voi cosa chiedete nello specifico? Noi nello specifico chiediamo innanzitutto una maggiore attenzione al problema della sicurezza, l'applicazione integrale del decreto sicurezza da parte dell'amministrazione comunale, un maggiore controllo del territorio anche dalle forze della Polizia Municipale che affianchino anche le forze di sicurezza del nostro territorio, già tantissime impegnate a contrastare la problematica connessa alla sicurezza e l'istituzione di un tavolo tecnico per la sicurezza presso un'amministrazione che coinvolga tutti gli attori del sistema, nonché anche la cittadinanza, una maggiore sorveglianza delle zone sensibili, quali locali cittadini, locali esercizi commerciali, scuole, centri di aggregazione e un maggior controllo anche di quelle aree degradate nel nostro territorio, faccio riferimento ad esempio al Largo Martiri di Viafani, dove a quanto pare c'è la presenza di gruppi di immigrati irregolari nel nostro territorio. Secondo lei a Ribera c'è la giusta consapevolezza verso questo problema? Credo che ci sia la giusta consapevolezza, però c'è tanto da fare sulla sensibilizzazione sia all'amministrazione che anche della cittadinanza. Sensibilizzazione su due fronti, il primo è connesso sicuramente ad una maggiore integrazione degli immigrati irregolari nel nostro territorio, lungi da me al pensare di non ospitare immigrati quelli irregolari, è giusto che vengono integrati e che vengono offerti a loro tutti i servizi previsti dal nostro ordinamento. Per gli immigrati irregolari, a tutela anche dei regolari e della cittadinanza, è necessario che possano essere tutte quelle azioni di contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare.